Dati INA in Labruzzo, calano gli incidenti sul lavoro del 30%, scesi da 10.306 del 2022 a 7.156 del 2023, ma raddoppiano i morti. Di questi 1.483 si sono registrati in provincia dell'Aquila, 1.920 in quella di Teramo, 1.556 a Pescara e 2.197 a Chieti. Le donne coinvolte sono state 2.568 pari al 36%. Nell'88% dei casi gli infortuni sono avvenuti durante il turno di lavoro, nei restanti si è trattato di incidenti durante il percorso casa-lavoro. A preoccupare però è il dato relativo ai decessi, raddoppiato il numero di morti che da 9 dello scorso anno è passato a 18. Le vittime degli incidenti mortali, tutti uomini, sono stati 7 della provincia di Teramo, 6 in quella di Chieti, 5 in quella di Pescara, nessuno in quella dell'Aquila, 2 gli incidenti mortali in itinere, percorso casa-lavoro e 4 quelli che hanno coinvolto lavoratori stranieri. Delle 18 vittime, 16 appartenenti al settore dell'industria, 2 a quelli dell'agricoltura. Numeri che disegnano una realtà preoccupante, necessario ed urgente affrontare il tema sicurezza sul lavoro, aumentando ispezioni e verifiche rispetto delle normative. Con queste motivazioni la CGL Abruzzo Molise sarà a Roma il prossimo 7 novembre nella manifestazione La Vita Maestra insieme per la Costituzione.